Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza prima e tagliare poi il primo tronco dell'istezione crollato. Stamattina presto l'abbiamo rimosso con i carrelloni portanti e adesso stiamo procedendo all'imbargatura del secondo tronco per sollevarlo e a sua volta rimettano sui carrelloni e così procederemo con il terzo prodotto e speriamo questa sera di riuscire a preparare l'imbarazione.